Grazie a tutti e raccontiamolo di nuovo per l'ennesima volta, ci sponsorizza e ci segue in questa nostra avventura alle stelle in edicola siamo qui con il nostro consigliere regionale portavoce del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarani Allora, noi abbiamo preparato due domande per il nostro portavoce è difficile, è difficile diciamo che siamo in tema di maturità, vediamo un po' Ok, ok, vediamo Che sei l'opinio? Allora, la prima domanda è molto attuale, notizia fresca fresca di stamattina referendum, dato ufficiale 73% di affluenza al referendum da parte degli inglesi No, no, il dato ufficiale 72, quasi 73 e ha vinto il LIP quindi gli inglesi hanno deciso di lasciare l'Unione Europea Cosa pensa il nostro portavoce Michele Cammarano di questa notizia? Quale analisi può dare di questo voto? Dal punto di vista della democrazia, dal punto di vista della partecipazione e anche dal punto di vista di italiano che si pone penso in modo abbastanza critico nei confronti dell'Unione Europea No, io ho fatto la domanda, poi nelle risposte possiamo essere molto più scherzosi Non ci può essere così, sembriamo del PD Oh, sento, non offendere in questo modo, Emilio, per cortesia La considero un'offesa personale No, mi prendi sorpresa perché c'è stato il referendum per lasciare Allora, una cosa bella Cittadini informati Che come al solito è sempre sconcertante Io ho lavorato un po' in Inquiltero, ho stato a Londra pure per un po' di mesi lavorando Ed è la semplicità con cui si faccia un referendum in Inghilterra Vuoi rimanere in Europa? Rimani o vattene? È semplicissimo, quindi uno arriva e già capisce E gli inglesi E diciamo che, analizzando un po' il voto Chi ha votato per uscire dall'Europa è quella zona dell'Inghilterra più povera Le zone periferiche La city di Londra, ovviamente, è chiaro Inverso del business, ammanigliata con le banche Ha visto bene l'Inghilterra No, noi siamo molto open No, noi siamo molto open Se qualcuno vuole partecipare non ci sono problemi Open per poi exit Quindi, praticamente ha votato per rimanere L'Inghilterra è che l'Inghilterra ha dato voce ai cittadini Ha fatto un... Sì, questo è il dato importante anche per me È una grande notizia Voglio dire E quindi ha dato questa è la parte a me E alza un po' la voce Esattamente Come si è scontato? Inizio, insomma 99 centesima di per market No, ma in fondo è quello che ha votato poi lui Per cui lui ha personalizzato molto il referendum E per cui alla fine è uscito che si vota Si è bruciato l'acqua No, non voglio Renzi Sì, voglio Renzi E quindi quello è poi alla fine quello che è successo nel nostro referenza Ma tornando a quello dell'Inghilterra invece È stata una rivolta popolare, secondo me, democratica Per uscire dall'Europa Personalmente io non credo abbia molto senso uscire dall'Europa Ha senso riformare Perché ci scontriamo soprattutto in agricoltura Che è un settore che In cui l'Europa investe moltissimo Qua per il 70% del budget europeo Incide molto sui regolamenti che a noi penalizzano Cioè diciamo che si prendono il muro della nostra agricoltura E ci lasciano il peggio degli altri paesi E su questo siamo sempre stati molto critici Su questo volere dell'Europa Livellare le varie nazioni Ti interrompo un attimo Siamo sicuri che non sia lui del PD Che parla di agricoltura Voglio dire Al PD ci sono braccia rubate all'agricoltura Ma non so se... No, no, no Voglio capire Non c'è l'agricoltura Eh perché sono braccia rubate all'agricoltura Voglio capire Voglio capire Voglio capire questa cosa No, perché Farbari nel repurto ad esempio Sia nella PAC No, quindi che riguarda l'agricoltura E i finanziamenti europei Ti salutano dall'agricoltura Puoi salutare tranquillamente Se vogliono i salitori dei signori Tranquillamente anche davanti all'obiettivo C'è la radio C'è la radio Noi non ci formalizziamo Noi anche quando lo facciamo Lo facciamo strano Ci piace così A volte ti viene da ridere Quando vedi regolamenti europei Su quanto deve essere lungo il cetriolo Quanto lungo deve essere il cetriolo Secondo Renzi Quanto grande è la vongola Anche questo Le nostre vongole La provoviamo un po' questa domanda Quanto lungo deve essere il cetriolo Proposto da Renzi agli italiani No, io direi una cosa Siccome lui parla di acquisto più sostenibile Quando l'agricoltura è sostenibile Non si utilizza una pentilizzazione In Italia Gli zucchini viene un pochino E c'erano un pochino più piccoli Giusto? Cosa è molto interessante C'è sempre qualcosa Per farlo confiato No, veramente Abbiamo ancora tre minuti Siamo in fascia protetta Perché qua state reggirando Noi sempre con le protezioni Sempre con le protezioni Ma io mi volevo ricollegare Visto che ti ho parlato Di referendum di ottobre Visto che ti ho parlato Di referendum di ottobre Come si pone il Movimento 5 Stelle In merito all'informazione referendaria Per il referendum costituzionale di ottobre Cioè Quali azioni verranno messe in pratica Cioè in concreto Per informare gli italiani Allora Visto che noi già sappiamo Che diciamo Il comitato del Sì Alias Renzi Metterà in campo Una macchina invernale Fatta per la prima volta Forse di web Perché ha detto Che la web è importante Se ne è accorto Con nove anni di ritardo Però va bene Non faranno con quella macchina Diciamo micidiale Il fatto di soldi E di organizzazioni Di gente pagata Perché il comitato Si viene pagato E quindi noi ci stiamo attrezzando Noi ci paghiamo pure le spille Ricordiamo Qualcuno ha detto Praticamente Di organizzarsi Con un veicuote Alla parella Ha detto anche Moralmente Alla parella L'abbiamo dietro la regia Il signor Pino Apicella Che ricordiamo Uno dei ideatori del programma Oggi ha deciso Di non comparire in video Non vuole comparire in video Senti un attimo Avanti qua Giusto per così Giusto per far rompere un attimo L'obiettivo È lui Un lapariello 50 che girerà In un metro Se non si vedeva che sfonda il motore Ma Ce la fa Ce la fa Il lapariello tour Conosce qualche dettaglio in più Insomma Diciamo che Una linea più generale Andremo in giro Per le città I piccoli comuni I borghi Informeremo i cittadini Sulle ragioni del no E anche del sì Perché secondo noi Le ragioni del no Sono inconsultabili Quindi Diamo al cittadino Cosa che non paranno gli altri La percezione di quello che si voterà E informiamoli Poi decideranno loro Ovviamente C'è lo decideranno per il no Che sarebbe uno schiaffo Per la democrazia E secondo me Come stanno andando i tempi Ultimamente Chiedo scusa Chiedo scusa È il bello della diretta Anche se non è in diretta Il freno non fa niente Fai a basso un pochino Un pochino il volume Altrimenti Si perde poi il messaggio Importantissimo Si perde il messaggio Della pariello tour E voglio dire Importante Della pariello tour Scusami per l'interruzione Ma noi diciamo che Se facciamo Il confronto in piazza La pariello va bene Che lo può fare Solo al chilopero zero Perché diciamo che A 2-200 chiloperi La pariello Non va bene Gli ortaggi Li possiamo usare Emidio Secondo me Gli ortaggi Li possiamo usare Per quelli del comitato del Sì Tranquillamente No no Mai sprecare il cibo Non è ben a pena Non è ben a pena Con parole Ci mangiamo Almeno Un gavettone Il nostro ospite Disturbatore Alias Paolini In questo caso Gennaro Severino Se vuoi intervenire Con qualche domanda Ebbè Tra l'altro Ma io ho chissé un po' di cose Prima Allora Il suo codice È 5S Il suo codice Sarai ricontattato Per dare un voto Da 1 a 10 Per la qualità Della risposta Siamo al tipo Call sender Signori Quiste Vai Emidio 5S Alza un po' la voce Alza la voce 5S 5S Secondo te Perché sto codice Molto casuale Molto casuale Comunque lasciamo Un messaggio serio A chi ci ascolta Ci proviamo Per segnalazioni Vari di problemi sul territorio Amiantoli Scariche Fiumi inquinati O anche per belle notizie Che magari possiamo in qualche modo Incentivare Ascidi e battesi di matrimoni esclusi Ovviamente Di mail Di mail È Cammarano Regione Chiocciolagmail.com Anche io faccio una comunicazione di servizi M'occhiudiamo Però la risposta Mi la dà A telecavole Noi dobbiamo affrontare La questione Dell'agricoltura In merito Diciamo A questa Alza un po' il volume Che sto pando Della regione Sul compostaggio Anero E la disponibilità Delle aree Per questo famoso Biocaz Che hanno già dato Nei nostri territori Lo so Dopo non dovremmo parlare Perché è importante Abbiamo concluso Vabbè Io lascio di nuovo Il saluto agli ascoltatori Di Radio Miranda A tutti gli attivisti A tutti i cittadini Che si informano Un saluto da Da Michele Cabarano Si ricorda ancora il nome Quindi è positivo Da Vito Esposito Da Gerardo Schac E dalla regia Vino a Pizella Un saluto Un bacio Cinque sete per tutti E da C Eric Dio Grazie a tutti.